Promesse illusorie, incompiute e spreco di soldi pubblici dell'amministrazione pesarese. Queste le osservazioni di interesse pubblico sollevate oggi da Fratelli d'Italia, in una conferenza organizzata in comune a Pesaro. Sotto la lente di ingrandimento del primo partito al governo sono finite le linee programmatiche del sindaco Ricci, in riferimento al mandato elettorale 2014-2019. I temi della sicurezza, del benessere economico e sociale, del costruito e del rilievo del centro storico sono alcuni dei temi trattati oggi, sui quali Fratelli d'Italia critica le promesse non mantenute. L'idea appunto di Fratelli d'Italia, proprio in partenza da quelli che sono stati i risultati elettorali, sente forte il dovere e la responsabilità di offrire comunque alla città di Pesaro un nuovo destino e una nuova storia. Per questo ha iniziato questo percorso partendo dall'esame delle criticità e delle esigenze della cittadinanza che in questo periodo chiaramente è preoccupata anche sotto il profilo economico, sotto il profilo del disagio giovanile e sotto tanti altri profili, per poi passare alla creazione, alla realizzazione di una nuova visione della città di Pesaro. Un centro storico non valorizzato adeguatamente, visto che Pesaro ha comunque delle ricchezze, è un centro storico importante, anche di recente alcuni turisti che si sono recati qui a Pesaro hanno evidenziato la limitatezza delle luminarie natalizie e della valorizzazione del centro storico. Piccanti sono state anche le sottolineature sulle infrastrutture incompiute da parte dell'amministrazione in questi anni, come il vecchio palace in via dei partigiani, tra lungaggini burocratiche e costi impennati da una base iniziale di 3 milioni a 11 milioni di euro, il degrado del cavalcaferrovia, i lavori fermi da quasi 4 anni dell'ex tribunale in via San Francesco, la nuova questura e un inattuale piano regolatore fermo a circa 20 anni fa. Con un vecchio piano regolatore, il 2004, poi riaggiornato, ma non modificato più di tanto, comincia ad avere 20 anni, vuol dire che manca proprio una logica di indirizzo sia a livello politico sia a livello di come si vede la città. Superficialità e incompetenza lamentate da Fratelli d'Italia anche sul piano dello spreco dei soldi pubblici. Dai 600 mila euro di danni richiesti dalla società Porta Capuccina inerente all'acquisto dell'adiacente parcheggio alla richiesta di 35 milioni fatta da Adriatica Costruzioni per l'inquinamento rilevato sul terreno dell'ex AMGA. Lo spreco del denaro pubblico che abbiamo detto alcune cose e già su queste alcune cose siamo arrivati circa a una cinquantina di milioni di euro, che sono cose che pesano, che gravano su questa città e che sicuramente tutti quanti ci riportiamo per non parlare di tutto quello che sono mutui e accesi per fare questo. In più tutto quello che si vede ed è stato fatto ed è anche portato avanti con soldi che arrivano, soldi a destra, soldi a sinistra, ma questi soldi diciamo così non si vedono effettivamente sul campo. perché sono otto anni che queste cose vengono iniziate e non vengono portate a termine.